Giudicare i Marò spetta all'Italia, questa l'ultima parola sull'arbitrato internazionale tra India e Italia su questa vicenda che va avanti ormai da 18 anni. Il Tribunale arbitrale, costituito a Laia nel 2015, ha accolto quindi la tesi, sempre sostenuta dall'Italia in tutte le sedi giudiziarie indiane e internazionali, e cioè che i due fucilieri di Marina erano funzionari dello Stato italiano, impegnati nell'esercizio delle loro funzioni e pertanto immuni dalla giustizia straniera. I giudici internazionali, infatti, hanno stabilito che l'Italia dovrà esercitare la propria giurisdizione e riavviare il procedimento penale. Dunque, il processo a carico dei due Marò, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, riprenderà, sì, ma in Italia, un successo per la diplomazia italiana. Ma anche il governo indiano parla apertamente di una sentenza positiva perché i giudici internazionali hanno sancito che l'Italia ha violato la libertà di navigazione e dovrà pertanto risarcire economicamente l'India per la perdita della vita dei due pescatori del Kerala, colpiti a morte, secondo alcune ricostruzioni, dai due fucilieri del reggimento San Marco.